Ci sono 209 miliardi per far ripartire l'Italia nel post-emergenza Covid. Un risultato straordinario del governo e del presidente Conte, un'occasione unica anche per il Molise. L'obiettivo è quello di superare la cosiddetta quota 34 ed arrivare ad investire fino al 40% di quei miliardi per il su delle sue infrastrutture. A parlarne l'onorevole del Movimento 5 Stelle Antonio Federico. e lo fa in una nota ricordando che il Recovery Fund apre una partita che si gioca sulla programmazione del territorio e sull'individuazione di nuove opere da realizzare, completare o allargare. Raccolgo con favore gli stimoli che vengono da più parti, dice l'onorevole, per realizzare una strada a quattro corsie che unisca Venafro con Termo. L'istrategico resta in questo senso l'impegno, già assunto in termini progettuali da ANAS, per la realizzazione della variante di Venafro con il collegamento della statale 685 all'autostrada A1 all'altezza di Mignano-Montelungo. 10 chilometri di strada, di cui 8 in galleria, dal costo stimato di 250 milioni di euro. Lungo l'asse della Bifernina, conclude poi il parlamentare molisano, è invece necessario studiare e proporre un'alternativa al viadotto di Ponte Liscione, con costi non ancora preventivabili. Sciogliere questi due nodi significa facilitare qualsiasi tipo di idea o investimento che possa finalmente portare una quattro corsie in Molise.